Allora rientriamo in onda qui su Play, siete all'ascolto magari anche la visione di RBA Radio e TV nel corso di questa puntata in maniera un po' eccezionale, vi ho dato qualche aggiornamento anche da punto di vista molto locale per via di questa allerta meteo ma vi daremo aggiornamenti nel corso di tutta quanta la giornata quindi adesso ci prendiamo invece una parentesi per andare a ragionare in realtà un po' del tema con cui ci siamo lasciati ovvero il racconto di quello che succede nel Medio Oriente e a Gaza almeno in parte perché vi ho dato notizia qualche giorno fa che Emergency ha ottenuto dopo qualche lungaggine burocratica il permesso di entrare nella stiscia di Gaza per andare chiaramente a portare il proprio supporto e il proprio aiuto e poi incidentalmente domani inizia una bella festa per Emergency una festa annuale insomma dove ci si ritrova ci si racconta e quindi vogliamo raccontare entrambe le cose lo facciamo con il direttore dell'area emergenza e sviluppo di Emergency, Daniele Giacomini ciao, benvenuto su Play ciao, buongiorno a tutti buongiorno a te, grazie davvero per la disponibilità io andrei un po' in ordine anche proprio strettamente cronologico anche appunto per legarmi a quello di cui ho appena parlato quindi l'argomento del Medio Oriente la domanda insomma è un po' banale ma è il punto di partenza inevitabile che cosa andate a fare a Gaza? Qual è l'obiettivo di questa missione? se si può chiamare missione, sì sì, si può chiamare missione assolutamente a Gaza andiamo, stiamo cercando di mettere in piedi una struttura che porti un supporto di medicina di base e di stabilizzazione quindi un centro anche di stabilizzazione dei feriti con poi successivo riferimento a strutture che possano prestargli soccorso in questo momento ci siamo concentrati su questo tipo di attività perché nella striscia come probabilmente i più sanno leggendo i giornali, seguendo le notizie uno dei principali problemi è proprio legato alle condizioni igienico-sanitarie dovute ai continui sfollamenti di popolazione che vengono fatte spostare in base agli ordini di evacuazione per le operazioni militari da una porzione di territorio a un'altra una porzione di territorio che giusto per dare un'idea della dimensione io sono di Torino, Torino ha un'estensione di un centinaio di chilometri quadrati qua stiamo parlando di una sessantina di chilometri quadrati quindi è giusto già per dare una dimensione di quelle che sono proprio la ristrettezza degli spazi e le conseguenze di questa ristrettezza Sì, diciamo che il fatto che se nel 2024 è stata lanciata dall'OMS d'urgenza, d'emergenza una campagna di vaccinazione della poliomielite e questo già un po' ci dà contezza di qual è l'ordine di grandezza dei problemi igienico-sanitari nella striscia L'ingresso a Gaza è estremamente complicato lo sappiamo anche noi che cerchiamo di raccogliere notizie che arrivino da quelle parti ci puoi già raccontare qualcosa rispetto a praticamente quello che sta accadendo sul campo quello che si vede o ancora troppo presto? No, quello che si vede si può raccontare anche ben raccontato devo dire dai media sono immagini di una tragedia quotidiana quello che noi stiamo cercando di fare in queste settimane e che abbiamo appunto concretizzato negli ultimi giorni era l'identificazione dell'area di intervento che rimarrà all'interno di questa che viene definita zona umanitaria che però è una zona che nel tempo si è ristretta sempre di più saremo nell'area di Caniunis ci stiamo muovendo tra l'area di Deir al Bala e di Caniunis che sono appunto delle dimensioni di quartiere per quanto ci riguarda per quella che è la nostra dimensione urbana in Italia e avendo identificato l'area che è un'area che ovviamente è stata identificata per quelli che sono i bisogni adesso ci apprestiamo a portare avanti tutto il lavoro di costruzione della clinica e in parallelo diciamo con stesso livello di difficoltà o forse di più a portare avanti tutte le pratiche per fare entrare il team sanitario e ancora più difficile i materiali necessari materiali sia farmaceutici che biomedicali necessari all'attività questo sicuramente sarà una delle e una in questo momento dei challenge principali che stiamo affrontando perché purtroppo la striscia è completamente barricata ed è estremamente complicato far entrare anche uno spillo chiaro, chiaro insomma voi non siete esattamente alla prima prova in un intervento in un campo di guerra o di estrema violenza ed estrema tensione detto ciò mi immagino che non si vada proprio a cuor leggero da queste parti soprattutto quando si sentono le notizie di convogli dell'ONU colpiti di ambulanze colpite quindi insomma immagino un certo livello di tensione di paura anche assolutamente i colleghi riportano un continuo bombardamento movimento di droni c'è stato qualche giorno ora di pausa adesso con la campagna di vaccinazione per la polio ma comunque il movimento di droni è continuo quando abbiamo occasione perché si riesce ad agganciare una connessione internet di avere una telefonata a voce non solo per messaggio il sottofondo è costante sì sì anche qualcosa che non ci in effetti tu dicevi l'abbiamo vista le immagini l'abbiamo abbiamo guardato insomma quello che succede dal punto di vista acustico in effetti ci mancano che cosa vuol dire stare da quelle parti effettivamente vivere vivere con il continuo rumore ronzio di sottofondo delle armi che esplodono deve essere deve essere impattante è difficile uscirne anche psicologicamente direi da questa da questo da questo scenario proviamo noi adesso a uscire da questo da questo scenario cambiando un po' un po' tono rispetto a questa questa chiacchierata perché appunto ha un po' una doppia valenza questa questa chiacchierata che faccio a voi volevo approfittarne per farmi raccontare questo intervento e magari in futuro ci sarà modo di fare un aggiornamento rispetto a come sta andando la missione ma intanto sta per cominciare anche la festa di Emergency un appuntamento annuale ci puoi dare innanzitutto qualche coordinata giorni luoghi sì siamo alla quarta edizione intanto del festival a Reggio Emilia città che ci ospita appunto adesso già da qualche anno e quest'anno è un festival dedicato alle persone proprio ispirandosi a quelli che sono i 13 milioni di persone che l'organizzazione che Emergen si è curato in questi 30 anni di attività quest'anno il festival cade appunto in un'occasione particolare perché festeggiamo 30 anni e quindi durante il festival ci saranno diverse occasioni in cui racconteremo questi 30 anni attraverso appunto i racconti degli operatori ma anche attraverso l'intervento di esterni che ci daranno una mano a contestualizzare e anche a dare diciamo un'idea di quella che è l'evoluzione è stata l'evoluzione nel tempo del mondo umanitario della risposta all'emergenza così come della cooperazione allo sviluppo chiaro chiaro quindi in particolare su questo se posso se posso citare uno degli interventi che uno degli ambiti comunque degli spazi che sono stati creati che può essere di particolare interesse anche perché non si limiterà soltanto ai giorni del festival ma continuerà poi durante il mese di settembre fino a ottobre e la mostra Humanity Lovers che si terrà al Palazzo dei Musei tutti i giorni del festival ma così come anticipavo poi si protrarrà anche fino a ottobre ed è un percorso artistico che racconta la nascita la crescita e la visione di Emergency chiaro chiaro tra l'altro qualche mese fa avevamo raccontato invece una mostra in cui si raccontava la vita sulla Life Support che era stata organizzata e gestita proprio qua a Pinerolo dal gruppo locale di Emergency sempre appunto nell'ambito di questo anno particolare per Emergency insomma non posso chiederti di raccontarci tutto quanto al programma intanto perché immagino si è difficile ricordarsi alla memoria perché se no ci mettiamo ci mettiamo un po' di tempo ma riesci a individuare qualche appuntamento che potremmo tenere collegandomi intanto proprio alle operazioni SAR di cui facevi riferimento domenica 8 alle 10 nell'occasione dei dialoghi in piazza Prampolini abbiamo questo appuntamento intitolato In viaggio a non pregare è un racconto proprio dalla live support tra l'altro racconto da cui è nato anche da cui è nato anche un podcast che sono quattro episodi per raccontare l'incontro tra il personale umanitario che ha partecipato alle missioni e le persone migranti soccorse le occasioni sono tante ci sono veramente tanti appuntamenti potete tutto fruibile accessibile dal sito mi verrebbe da raccontarvelo il programma perché è assolutamente fit e interessante spaziamo dal SAR alla crisi Medio Oriente all'evoluzione in Afghanistan in Sudan che sono contesti in cui siamo attivi da tanti anni che di recente si sono fatti di nuovo sentire Sì chiaramente sul vostro sito c'è tutto quanto il programma aggiungo giusto che appunto ci sono questi incontri questi momenti di dialogo in cui si raccontano anche le parti magari più pesanti del vostro lavoro e delle vostre considerazioni alternato a appuntamenti più diciamo di intrattenimento leggeri in genere c'è della musica o dello spettacolo nelle serate altrimenti non sarebbe esattamente una festa è un'occasione per le famiglie quindi per adulti e bambini io personalmente ci vado con mia figlia quindi ottimo ottimo allora ci metti il primo piano allora se siete dalle parti di Reggio Emilia queste sono le date 6, 7, 8 settembre quindi a partire da domani io appunto rinnovo l'invito a magari fare poi un aggiornamento in futuro per quello che invece sta succedendo nella striscia di casa quello che state facendo e vedendo magari ci sarà modo di aggiornarci in futuro se non con te con qualche collega ma intanto ho parlato molto volentieri con te Daniele Giacomini grazie mille per questo intervento e ci sentiamo alla prossima grazie mille arrivederci a tutti